Ciao bambini, mi chiamo Ugo e questo è il mio canale Ugo Kids TV Oggi faremo la conoscenza di tantissimi esemplari di squalo in più tante curiosità inerenti a questo affascinante pesce Siete pronti? Eccoli che arrivano! Grande squalo bianco Squalo balena Squalo della Groenlandia Squalo elefante Ecco bambini la prima curiosità sugli squali Lo sapevate che gli squali non dormono? Restano con gli occhi aperti, muovendosi più lentamente Continuando comunque a nuotare e mantenendo il cervello a riposo Squalo maco Squalo toro Squalo tigre Squalo martello Non tutti gli squali sono carnivori Esistono infatti diversi esemplari che per sopravvivere si nutrono esclusivamente di plankton Come ad esempio lo squalo balena Squalo megabocca Squalo leopardo Squalo leopardo Squalo limone Squalo del volante Lo sapevate che gli squali hanno tra le cinque e le quindici fila di denti per ogni mascella Lo squalo bianco ad esempio può avere anche cinquanta denti in ogni fila Squalo volpe Squalo zebra Squalo bonnet head Ossia testa di cofano Squalo goblin Lo sapete bambini qual è lo squalo più grande al mondo? E' lo squalo balena che in media è lungo 12 metri Circa come una squalabus Può arrivare addirittura fino a 18 metri e pesare 30 tonnellate Tranquilli però bambini perché come abbiamo detto all'inizio Non è uno squalo carnivoro infatti si nutre esclusivamente di plankton Adesso bambini ripassiamo tutti i nuovi degli squali Grande squalo bianco Squalo balena Squalo della Groenlandia Squalo elefante Squalo maco Squalo toro Squalo tigre Squalo martello Squalo mega bocca Squalo leopardo Squalo limone Squalo del volant Squalo volpe Squalo zebra Squalo bonnet head Squalo goblin Vi aspetto al prossimo video Non mancate